Qui con noi è l'assessore Ennio Cascetta della regione Campania, che saluto. Buonasera. Cominciamo a parlare subito un po' di infrastrutture, l'importanza delle infrastrutture a livello nazionale ma anche a livello regionale. La Campania in particolare è una regione che ha diverse criticità da questo punto di vista. Le infrastrutture sono sicuramente una delle grandi priorità del Paese, lo riconoscono tutti, sia a destra che a sinistra. Del resto basta vedere qualunque statistica sulla dotazione per abitante di ferrovie, di autostrade, di metropolitane, per rendersi subito conto che il nostro Paese è parecchio indietro rispetto a tutti i Paesi europei, anche Paesi europei non forti economicamente come il nostro. Sempre per tornare all'esempio delle metropolitane, siamo penultimi in classifica in termini di dotazione di chilometri o di centimetri di metropolitana per abitante, davanti a noi c'è anche il Portogallo e dietro a noi solo la Grecia. Quindi veramente è un ritardo evidente che costa tantissimo, qualcuno stima una cosa dell'ordine dell'1% del prodotto interno all'ordo, quindi parliamo di decine di miliardi di Euro all'anno di costi di congestione, di costi di inefficienza. E rispetto a questo ritardo enorme abbiamo d'altro canto una situazione finanziaria, quella del nostro Paese, che non sembra avviare, consentire l'avvio di un programma importante di infrastrutturazioni. L'unico grande progetto che sta camminando è quello dell'alta velocità, alta capacità, progetto importante, progetto Paese, e però da solo sicuramente non basta. E come dicevo prima, il problema principale dell'Italia in questo momento, come la vedo io, come la vedo dalla mia prospettiva non solo di assessore regionale, ma anche di coordinatore degli assessori italiani ai trasporti, io penso che noi siamo in grande ritardo proprio sulle infrastrutture, sulle tecnologie, sul materiale rotabile del trasporto locale, del trasporto pubblico. Quindi metropolitane, metropolitane regionali, nodi di interscambio, treni, autobus, su tutta questa enorme partita che ha un'importanza strategica per l'intero pianeta, oserei dire, perché tutti sappiamo dei rischi enormi in cui ci troviamo rispetto all'inquinamento e ai cambi climatici. Un terzo dei gas a effetto serra, del CO2 che viene prodotto nel mondo, è prodotto dai trasporti. E' quasi tutto dal trasporto privato, dall'automobile, che è il mezzo meno efficiente dal punto di vista energetico, dal punto di vista di emissione di gas a effetto serra, per non parlare della congestione. Quindi la risposta che tutto il mondo dà a questo problema, che gli altri Paesi europei danno a questi problemi, è riequilibrare il trasporto pubblico con il trasporto privato, quindi far crescere il trasporto pubblico e ridurre l'uso del trasporto privato. E' chiaro che per far questo bisogna offrire un trasporto pubblico di qualità, metropolitane moderni, autobus nuovi, treni nuovi, eccetera. Da questo punto di vista, come diceva, la nostra regione ha fatto veramente da oltre dieci anni una scelta di campo. Esatto, di fatti la regione Campania figura tra le regioni che sono in prima fila nello sforzo di migliorare, di rendere sempre più ad un livello alto il trasporto pubblico. Però credo ci sia oggettivamente un problema di fondi. Ma guardi, noi abbiamo, contrariamente a quello che spesso si dice, speso molto bene tutti i fondi europei, i fondi per il mezzogiorno, i famosi FAS, abbiamo concentrato tutte le risorse su un grande progetto di trasporto pubblico nella nostra regione. Noi abbiamo, fino in questi ultimi dieci anni, aperto all'esercizio 50 chilometri di nuove linee di ferrovia metropolitana, urbana e regionale, 37 nuove stazioni. Abbiamo un sistema di integrazione tariffaria che è il più ampio d'Italia, con lo stesso biglietto si usano 12 vettori diversi, da qualunque punto a qualunque altro punto della nostra regione. Abbiamo comprato per mezzo miliardo di euro treni nuovi e autobus nuovi. Quindi stiamo facendo uno sforzo gigantesco, veramente gigantesco, per realizzare un sistema di mobilità sostenibile. I risultati si vedono. In Campania l'uso del trasporto pubblico è aumentato del 40%, l'uso della ferrovia addirittura del 50%, proprio perché stiamo investendo in sistemi ferroviari, in metropolitane. Quindi questo ha comportato un aumento del traffico sul trasporto pubblico e una riduzione del traffico sul trasporto privato. Però vede qual è il meccanismo che io definisco perverso e che in questa conferenza propongo di modificare. Il meccanismo perverso di finanziamento del trasporto pubblico in Italia. Infatti il trasporto pubblico si finanzia nel nostro paese con un'accisa sulla benzina e sul gasolio. Quindi per ogni litro di benzina e del gasolio due centesimi vanno a finanziare il trasporto pubblico. Se noi riusciamo a convincere i nostri cittadini a lasciare loro automobili a casa e a usare il trasporto pubblico, che è quello che ci dice l'Europa, che ci dice il mondo, che cosa succede? Che non incassiamo i due centesimi e quella persona che usa il trasporto pubblico ovviamente ha bisogno di autobus, di treni. E quella persona che fa un viaggio paga solamente un terzo del costo del suo viaggio, perché i biglietti coprono un terzo del costo del trasporto pubblico. Quindi paradossalmente più siamo bravi a portare avanti una politica di mobilità sostenibile, più problemi economici abbiamo. La nostra regione in questi anni per effetto di questo spostamento della mobilità dal trasporto individuale al trasporto collettivo ha perso 10 milioni di euro di incassi di benzina e ha dovuto aumentare di 30 milioni di euro i contributi per la gestione dei trasporti ferroviari e del trasporto su gomma. Quindi un disavanzo enorme che in assenza di un sistema di fiscalità, di federalismo fiscale, grava tutto sul bilancio della regione e rende veramente difficile continuare su una strada che tutti sosteniamo in teoria essere la strada da seguire. Da questo punto di vista siamo un po' più avanti degli altri, abbiamo fatto di più su questo filone, cioè quello di fornire una mobilità sostenibile basata sul trasporto pubblico ed essendo più avanti di altri stiamo sperimentando prima di altri questo paradosso, diciamo così, dei meccanismi di finanziamento in cui più successo hai, peggio stai dal punto di vista economico e questa è evidentemente una distorsione che dobbiamo cambiare. La proposta che io faccio in questa conferenza è quella di trovare un meccanismo di finanziamento del trasporto pubblico diverso da quella della benzina, per esempio sull'IVA, quindi su una fonte più stabile e indipendente dalle politiche che si mettono in campo e addirittura individuare un meccanismo premiale che consente di avere più risorse alle regioni, ai territori che riescono di più a spostare, diciamo così, traffico dall'automobile al trasporto collettivo perché questo è quello che è l'obiettivo che tutti ci siamo dati abbiamo ascoltato le Nazioni Unite, abbiamo ascoltato Obama, abbiamo ascoltato il Presidente cinese, insomma mi sembra che l'intero pianeta abbia finalmente capito che questo tema del riscaldamento globale è un tema serio che non può essere sottovalutato e quindi le politiche economiche devono poi consentire di raggiungere gli obiettivi strategici che il pianeta si sta ponendo. Allora io ringrazio l'assessore Cascetta anche per le anticipazioni che ci ha dato e dalla sala delle interviste che abbiamo allestito qui presso il Centro Congressi di Riva del Garda restituisco la linea alla regia. Allora io ringrazio l'aff俗